Stamattina è il contesto conclusivo di Energia Bella Storia, un percorso che negli ultimi due mesi ha animato la vita di molte classi delle scuole medie, delle scuole elementari e della scuola materna dei ragazzi di Ravenna. Si andrà a premiare il lavoro migliore eseguito sul risparmio energetico e sui temi dell'educazione e rispetto dell'ambiente. Sono tematiche che ormai non si possono escludere nel percorso formativo dei ragazzi, sono tematiche che creano consapevolezza e quel grado di cittadinanza attiva e critica che devono essere nel bagaglio di ognuno dei nostri cittadini di domani. Grazie